schiero il mio esercito in formazione più larga possibile vabbè mentre si mettano a posto vi faccio vedere la bellezza del mio generale eccolo qua il generale è molto fashion si c'è l'arco che è più grosso del cavallo e di lui qua mi sto preparando a fare una cosa assurda perché ho detto sta partita o la vinco o la vinco se no i miei amici del canale mi odiano non mi seguono più allora poi ho detto no dai ma questo ha detto che era la tua seconda partita la mia prima o seconda penso seconda perché guarda che io prima di vincere una partita ne ho dovute fare un sacco quindi sei stato bravo già così grazie grazie allora qua i miei soldatini stanno un po' pensando su quello che dovranno fare ci stanno scaldando i muscoli ma che belli allora mandiamo un attimino avanti intanto mi sa che i monetet hanno preso il dojo eh sì i monaci gli spagazzini mi sa perché loro più intelligenti di me hanno capito che si deve scendere la cavallo anzi te li hanno presi tutti e due mi sa eh infami bella roba eh qua qua raga decido di che è il momento di dare una svolta alla partita carico con tutte le mie unità quasi tutte guarda la gente incazzata raga vi faccio vedere l'impatto perché è stupendo a me piace un casino ho comprato sto gioco solo per vedere gli ometti che si schiantano qua la mira del mio nemico non ha uguali eccoli qua mi sembra che lui li ritira adesso gli arcieri giustamente perché sennò erano tutta gente morta eh sì infatti sì beh li usa fino alla fine eh ci siamo anche lui mi carica e qua e qua e qua si ammazzano e qua si ammazzano eh ecco eh sì sì bel gioco bel gioco comunque qua già solo con il primo attacco mi hanno devastato ma poi arriva arrivano i rinforzi miei da dietro e diciamo che il loro esercito in questa battaglia è leggermente inferiore poi gli faccio avvicinare il mio generale che è da più energia no? cos'è da eh generale è da morale da morale esatto generale infatti è utilissimo se ti muore il generale in shogun sono cavoli amari l'unico problema è che lui avendo sia il dojo degli spaziacini che il santuario mi pare che si chiami c'è un bonus in morale e in attacco per cui è piuttosto incazzato molto più di te tra l'altro mi dovrei mi dovrei insegnare a togliere io gli ho messo l'arco però se voglio fare un attacco corpo a corpo non si può eh tipo devi premere quando attacchi devi premere alt devi premere alt almeno non penso non mi ricordo più perché quando ti carica il ma forse è in Total War in Medieval 2 Total War no perché sinceramente sono quelle cose che mi vengono automatiche farle qua i miei soldati incominciano a scappare allora io avvicino un attimino di più il mio generale qua la battaglia addirittura sembra che la sto perdendo epico ma infatti ho vinto grazie a un colpo di culo perché è il mio eh te sta scappando qua sto caricando qua sto caricando poi mi sembra che da dietro qualche unità si riprende questa qua cosa sono? gli arcieri sono rimasti in molti ma poi il generale c'è anche la trombetta per tirare su il morale la gente eh infatti mi sembra che l'ho fatto sì ho incitato i miei soldati no è lui è il nemico che l'ha fatto eh sì ah che cazzo non è bello ma comunque c'è un'autunità di samurai con katana che sta spaccando la faccia un po' gli ometti vicino al generale eh qua adesso questi qua? sì eh no adesso adesso la situazione è abbastanza riboltata eh qua adesso i miei uomini si sono un attimino ripresi allora io attacco con violenza sì adesso cosa rimane? ti rimane il monaci? sì sì mi rimangono tutte le persone sì al nemico rimane invece ma guarda il nemico ha fatto un epic fail perché li ha lasciati tutti qua se lui mi mandava i monaci all'attacco avevo perso eh sì perché mi facevano l'urlo di battaglia l'urlo di guerra i miei soldati scappavano tutti invece no o se li dimentica o comunque non li lancia in battaglia quindi io grazie all'aiuto anche del mio generale che è un ganzo li spacco tutti qua i miei samurai eccoli bellini sì perché i monaci nemici sono lì che sta guardando i fiori eh infatti fanno proprio un tubo meglio così vada i miei arciari in questo momento avete sentito hanno finito le frecce quindi adesso lanciano gli archi no no il mio generale qua sta andando a farsi un giro l'ho fermato perché se no inseguiva gli altri non la finivamo più eccoli qua sto radunando tutto il mio esercito per vedere quanti me ne rimangono ma non vi mettete a ridere perché se attaccavo con la mia classe c'era più gente ecco qua il mio generale lui c'ha il generale il suo generale che c'è l'ha qua dietro l'ho notato adesso non so che cacchio se ne fa però poi stranamente mi sembra che dopo se lo mette qua velocizziamo un attimino se no qua volevo un attimo capire quanta gente avevo sì c'è una tua unità di arcieri che va in fuga a vista il generale nemico si è messo a scappare eh si è messo a caga eh capita come corrono ah no stanno camminando adesso io li sto mandando all'attacco a caricare gli ultimi gli ultimi pezzi del suo esercito velocizziamo ancora un po' perché se no non ce la facciamo più ecco qua boh ci siamo dai adesso ci manca un'unità nemica e via e il gioco è fatto qua comunque i miei soldati non so se ti leggo ma stanno morendo perdita di molte vite umane diciamo che è morto solo tutto l'esercito non è che era qualcosa di di eccezionale oddio beh ha vinto per il rotto della cuffia però sì ho vinto per il corso partitozzo aspetta che carico i monaci che tra l'altro già solo i monaci mi avrebbero potuto battere tutti questi soldati che avevo anche se erano qua 40 e qua 30 quindi avevo 70 loro ne avevano 33 mi hanno dato filo la torcia se non era per il generale che mi sembra che ci lancio le frecce le frecciazze no il mio generale qua sta dormendo ah no sta lanciando le frecce sì ok quindi le frecce gli tolgono anche un po' di morale eh le frecce sì alla fine ogni volta che spacchi un pochetto le facce ai nemici gli abbassi anche il morale beh chiamoci qua il combattimento che è epico mi sto dato i mogliono tutti non c'è niente da fare guarda qua proprio sembra vero eh alla fine niente i miei incominciano a scappare mi sembra sì incominciano a scappare eh sì beh ma dopo tutto insomma quello che potrebbero fare l'hanno fatto eh incominciano a scappare però la battaglia comunque l'ho vinta e boh dai niente beh perché scappa contemporaneamente l'armata nemica eh infatti ho avuto culo ho vinto per questo questo piccola cosa vabbè dai ragazzi il video di oggi finisce qui ringrazio Mr. Carati per essere stato con noi sì e al prossimo video ricordatevi di mettere un bel mi piace vi metterò il link del canale di Mr. Carati anche se immagino che lo conosciate già eh boh dai ciao ragazzi al prossimo video ciao bellissime